estate litoranea per gli amici a quattro zampe non senza disagi abbiamo raccolto la testimonianza di utorresa che domenica ha incontrato non poche difficoltà in merito siamo rimasti veramente male quasi tutti i lidi non accettano l'entrata di cani anche di piccola taglia solo uno faccio anche il nome perché veramente una persona lì do la conchiglia accettato diciamo l'entrata del cane senza senza fargli fare il bagno io sono d'accordo anche a non fargli fare il bagno ma il problema è non fare lì entrare trovare un angolo per diciamo per i nostri amici a quattro zampe che proprio guarda è assurdo sono stato a castellabate c'erano dei lidi attrezzati con le docce non parliamo del nord nord secondo me vengono più apprezzati i cani che diciamo che che le persone in genere voglio fare un appello trovate un angolo per i nostri i nostri amici a quattro zampe perché veramente nel 2024 sembra ridicolo non trovare un angolo per loro far fare il bagno al mio cane in quest'acqua sinceramente evito anche io ho tutto rispetto per le persone che fanno il bagno ma se lo porto è giusto per stare un po un po insieme insieme ad amici prendere qualcosa sotto all'ombrellone e poi andare via evito a volte evito pure io di fare il bagno ma figuriamoci il mio cane se gli devo far fare il bagno quindi cerchiamo di trovare un angolo speriamo che questo appello aiuti un poco le persone i proprietari dei lidi a trovare un angolo piccolino per loro un appello a tutti i lidi troviamo un angolo per queste famiglie che non sanno dove lasciare il proprio cane lo portano con sé fanno tutta la giornata sotto all'ombrellone e quindi riusciamo a risolvere il problema speriamo perché 2024 trovare ancora questa situazione specialmente qua giù sempre sembra sembra proprio ridicolo secondo invece quanto riferito dall'assessore al benessere animali laura vitiello il regolamento comunale prevede l'accesso dei cani tranne che nei lidi dove si è regolarmente esposto il divieto previa presentazione dei titolari degli stabilimenti balneari di richiesta all'amministrazione comunale entro il 31 gennaio ciao 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 ciao